Ciao, oggi parliamo di stile. Cos'è lo stile? È il modo in cui viene realizzato un lavoro. Perché è importante lo stile? Perché è quello che ti fa riconoscere. In che senso? Nel senso che chiunque vede il tuo lavoro dirà, ah, caspita, questo è sicuramente un lavoro di Luigi, perché? Perché ha riconosciuto il tuo stile. Quindi è importante, è importante crearsi uno stile, è importante fare un lavoro che ti renda diverso dagli altri, originale, che ti faccia riconoscere. Canva mette a disposizione uno strumento che ti può aiutare. Certo poi lo stile te lo devi creare tu, però in questo modo potrebbe essere un pochino più facile. Andiamo ad aprire il lavoro su cui stiamo facendo i nostri esperimenti. Nella home page del programma lo trovi in progetti recenti. Ecco qua il nostro vita da gatto. Prima di parlare di stile aggiungiamo però una pagina che sarà la pagina su cui faremo i nostri esperimenti e che quindi ci aiuterà a capire un po' meglio. Come al solito, vedi, basta che io metta il cursore sull'icona della pagina, clicco e mi viene aperta una pagina bianca. Adesso a noi il contenuto non interessa, per cui facciamo semplicemente qualcosa di molto semplice. Mettiamo un colore di sfondo, inseriamo una scritta e bene. Inseriamo delle forme. Ecco qua. Inseriamo una foto, così vediamo anche in che modo agisce sulle foto. Prendiamo questa e la mettiamo all'interno della nostra forma. Benissimo, abbiamo creato una pagina in più. Adesso possiamo affrontare il discorso stile. Andiamo nella colonna di sinistra e andiamo a prendere l'icona con la tavolozza. Ti ricordo ancora una volta che se non hai mai aperto questa sezione basta che tu vada su altro e poi la vada a cercare nelle icone che ti vengono presentate lì. Che cosa compare se io schiaccio stili? Mi compaiono due sezioni, colori e font. Partiamo da questa. Palette di colori. Prima di tutto palette. Attenzione bene, non è palette. Le palette sono quelle che servono in spiaggia col secchiello e le formine. Palette è una parola che significa proprio tavolozza, cioè un insieme di colori che si armonizzano tra loro. Quindi non un insieme di colori a caso, prendo dei colori 5-6 e li metto insieme. No, sono colori che stanno bene tra loro. Di solito se tu hai già una presentazione su cui stai lavorando, quando apri la sezione palette, la prima che ti compare è quella dove ci sono i colori del documento. Come faccio a saperlo? Allora vado a vedere questa palette, prendo la prima pagina, vedi che la nostra copertina aveva effettivamente dei grigi, dei marroncini. Se vado a vedere la seconda pagina, vedi anche qui dei verdi freddi, il nero, marroncini anche qua. Quindi quando io scelgo palette di colori per una pagina nuova e clicco sulla prima, lui già mi cambia i colori mettendo dei colori che stanno bene con le pagine precedenti. Con quale criterio? Ma lui li mette insieme e poi te li presenta in modo casuale. Vedi che qua l'icona è quella della casualità. La riconoscerai perché è la stessa che si va anche sulla riproduzione delle playlist di musica che magari ascolti. Cosa significa? Significa che io tutte le volte che clicco, guarda cosa succede, lui cambia i colori, sempre andandogli a prendere all'interno di questa palette. Quindi che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che la palette di colori che mi viene aperta per prima nella sezione palette di colori è quella che racchiude dei colori che stanno bene con lo stile del mio documento. Ma se io decidessi che voglio cambiare tutto, ok? Allora andiamo a prendere una palette molto molto diversa tanto per far vedere ecco qua la differenza. Ad esempio questa, vedi che ci sono dei colori che noi non abbiamo scelto. Allora vediamo cosa succede se io clicco. La mia pagina cambia completamente. Vedi blu, giallo, verdino, rosa, azzurro e nero. Tutte le volte che io clicco mi si combinano i colori di questa palette in un modo diverso. Vedi che non c'entra niente però con lo stile della mia presentazione. Però diciamo che io preferisco fare una cosa così, gialla, blu e nera. L'importante è che io una volta che ho scelto un insieme di colori, poi tenga quello per tutto il mio lavoro. Quello che voglio farti capire è che non c'entra quali colori io scelgo, quello è un problema di gusto personale. A me potrebbe piacere molto questo giallo, a te magari no, ok? Ma non c'è un giusto o uno sbagliato. È un problema di gusto personale. Se però io voglio utilizzare uno stile elegante, uno stile bello, devo assicurarmi che i colori che io ho scelto ritornino all'interno di tutte le mie pagine. Perché? Non c'è niente di peggio che aprire una presentazione dove ogni pagina ha dei colori diversi che non c'entrano niente gli uni con gli altri. È veramente una cosa terribile. Tu potresti anche aver inserito dei contenuti molto intelligenti, molto interessanti, ma ti assicuro che chi legge la tua o chi guarda la tua presentazione lo farà con fastidio. Eh, insomma, non è bello, no? Se io ho deciso che rispetto ai colori di prima preferisco questi qua, devo armonizzare la mia presentazione. Come faccio? Semplicissimo, perché noi adesso stiamo lavorando su tre pagine, ma tu immagina di averne dieci qui. Mica si può pensare di andare in ogni pagina, aprire ogni pagina e cambiare il colore a tutti gli elementi. No! C'è questo pulsante, applica a tutte le pagine. Adesso io allargo un po' qui in modo, ecco, così abbiamo sott'occhio e vediamo bene anche le pagine della nostra presentazione. Dunque, noi abbiamo cambiato questa. Vedi che è molto diversa, no? Se io clicco applica a tutte le pagine, guarda bene qui che cosa succede. Il titolo ha preso il colore dello sfondo. Il fumetto è diventato celeste, azzurro-turchese, con il bordo giallo. Ovvio, non poteva cambiare la fotografia, eh? Perché la fotografia rimane esattamente del colore che è. Infatti, se io vado a vedere la mia pagina, qui cambia. Ma è ovvio che la foto del gatto non cambia. Io ho inserito una foto proprio per questo. Ecco un altro suggerimento per scegliere la palette di colori. Torniamo a ingrandire. Ti sembra che questo turchese sia adatti a questo verde freddo, a questo bianco, a questi marroncini? A me sembra proprio di no. E siccome io non posso cambiare la foto, devo stare attento. Devo scegliere una palette di colori che vada bene con le foto che ho inserito. Ecco perché Canva ti suggerisce già, torniamo alla nostra palette originaria, ecco, diciamo che vogliamo il titolo più scuro, ti suggerisce già dei colori che si armonizzino. Quindi, adesso noi applichiamo nuovamente a tutte le pagine. Non mi piace il fumetto nero? Scuro? Bene, posso rimetterlo così, ecco, questo sta bene. Torno alla mia pagina. Non voglio il fondo scuro, lo voglio più chiaro. Ecco, lo metto marroncino che sta bene con questo gatto. Però io sto sempre lavorando all'interno di sei colori e non duecentocinquanta, ok? Che sono sei colori, ripeto, non presi a caso, ma che si armonizzano tra di loro. Naturalmente, io posso anche decidere che voglio non tutti e tre gli elementi bianchi. Allora, io ho scelto la mia palette, ma posso cambiare anche un solo elemento, no? Abbiamo cliccato l'icona colore dopo aver selezionato l'elemento che ci interessa. Si apre la sezione dei colori e qua mi vengono messi i colori del documento. Per cui io potrei già scegliere, vedi, questo è uno dei grigi che compaiono nella palette. Apriamo, ecco qua. Se io apro colori delle foto, lui mi apre tutti i colori che si armonizzano con gli elementi del mio lavoro. Guarda qui, allarghiamo un po'. Così si vede bene. Qua lui mette in queste icone gli elementi che abbiamo inserito. Riconosci? Questa è la pagina di copertina. Allora lui ti dice, nella pagina di copertina che fa da sfondo della copertina, sono stati utilizzati questi marroni. Il disegno che in copertina abbiamo messo del gattino utilizza questi colori. Vedi, questo è il rosa della bocca, della lingua. La foto utilizza questi. La foto del gatto, questi qui. La foto del gatto che ha inserito, questi qui. Allora, io posso o rimanere all'interno della palette, ma posso ampliare un po' di più la mia scelta senza per questo però andare a finire a prendere un rosa shocking o un giallo limone che non servirebbe a niente. Allora io potrei dirgli, ok, questo lo voglio fare più scuro, vado a prendere questo marrone qui, oppure questo marrone qui. La freccia la voglio fare invece rosa, benissimo. Il contorno di questa immagine voglio che spicchi un po' di più, proviamo a fare nero. Ecco, quindi, ricapitolando, io posso sia stare all'interno della palette che ho scelto, o che comunque mi viene suggerita, sia cambiare degli elementi. Vedi ad esempio che il nero e il rosa qua non ci sono, ma non c'è neanche questa tonalità di marrone. Però io non sono andato a prendere, che so, il rosa fucsia, che sarebbe stato veramente una cosa terribile. Sono andato a scegliere altri colori che però si armonizzavano. Perché? Perché li ho presi all'interno di colori che c'erano già qua. Quindi, ricapitoliamo. Posso scegliere una palette di colori, posso scegliere la palette che mi piace. L'importante è che, prima di tutto, si armonizzi con tutte le pagine della mia presentazione. Quindi la applicherò a tutte le pagine. Ma devo stare attento a quello che ho già inserito, in modo che la palette che vado a scegliere non faccia a pugni con quello che poi non posso cambiare. Se la palette di colori mi offre pochi colori, perché me ne offre solo sei, e io voglio provare a mettere qualcosa di più, abbiamo visto che posso selezionare l'elemento, andare a cliccare sull'icona del colore, e andare alla ricerca di un colore diverso, ma sempre all'interno dello stile della mia presentazione. Naturalmente, ricordati sempre che, palette o non palette, quando io sono in una pagina di presentazione, posso lavorare sugli elementi. Ad esempio, posso decidere che, mi va bene questo marrone, però, ecco qua, vedi, spessore bordo. Decido che gli metto un bordino nero. Stessa cosa posso fare alla freccia. Allora, questo significa che non c'è nessun bordo. Questo significa che posso inserire un bordo lineare, ma poi posso inserirlo anche in altri modi. E da questo posso aumentare o diminuire lo spessore, e qui posso arrotondare, guarda cosa succede alla mia freccia, gli angoli della freccia. Vediamo qua. Allora, in questo caso, io metto un bordo, però, vedi cosa succede? Qui compare, quando io clicco bordo, il colore del bordo. In questo caso sarebbe nero su nero, infatti non si vede niente. Allora, che cosa faccio io? Entro in colore del bordo. C'è sempre il solito discorso dei colori, non cambia assolutamente niente. Questo colore adesso mi compare in colore del documento, perché io l'ho usato in questa pagina. Ti ricordo che per documento si intende la pagina su cui stiamo lavorando. Quindi qua vengono riportati i colori che abbiamo usato qua. Allora, per praticità, adesso io metto qui, benissimo, torno sullo spessore, lo amplio, ed ecco che viene così. Quindi, anche se oggi abbiamo visto stili, palette, cose di questo genere, però, le funzioni che io ho imparato sugli elementi rimangono comunque sempre le stesse. Cioè, non mi cambia assolutamente niente, è chiaro. Sicuramente il contenuto dipende solo da te. Quindi, l'intelligenza, la validità, la profondità del contenuto che metti in una presentazione, quella Canva non ci può fare nulla. Però, far vedere una presentazione che dispone bene chi la guarda, è sicuramente una possibilità da sfruttare. Per adesso, come al solito, ti auguro buon lavoro. Ci vediamo alla prossima lezione. Grazie. 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 Grazie.